Uno degli elementi di interesse di questa OPNA 2023 è certamente il 5G, attorno al quale si favoreggia molto, si dicono cose vere, cose magari non propriamente vere e allora cerchiamo di capirne di più insieme all'ingegnere Antonio Atulino che abbiamo potuto ammirare alla fine della prima sessione di lavori proprio nel suo intervento nel convegno, 5G che è una materia per la maggior parte delle persone a cui noi ci rivolgiamo essenzialmente, non sono gli addetti ai lavori, è un po' ostica, ma che cos'è il 5G? Che cos'è il 5G? Il 5G è la rete di futura generazione, la rete che sta per essere implementata, si sta cercando di attuare, non è al suo completo sviluppo e quella rete è una rete che parte da una filosofia completamente diversa rispetto alle reti precedenti, all'obiettivo di integrare una serie di servizi che richiedono requisiti e aspetti completamente differenti, quindi è una rete sia mobile, normalmente si associa ad una rete mobile, la rete 5G la si associa al 4G, al 3G, al 2G, sono in genere reti mobili, la rete 5G rappresenta una rivoluzione anche nella rete fissa, quella la core network oltre che la parte di accesso, è una rete che promette e che sta fornendo una rivoluzione sia nell'ambito delle comunicazioni e sia nell'ambito dei servizi che in qualche modo può implementare. Caratteristiche chiave della rete 5G sono la bassa latenza, l'alta connettività, la massiva connettività, quella di avere connessione in maniera ubiqua, consente una specie di, volendo come dire, evocare un concetto filosofico, una specie di ubiquità della persona, quindi non soltanto ti consente di essere parte di un evento che è geograficamente lontano dal tuo, come adesso anche succede, ma nello stesso momento ti consente anche di interagire, di agire su quell'evento, su quella realtà lontana da te, quindi ti consente in qualche modo un dono dell'ubiquità, se vogliamo. L'ingegnere Turino è un ingegnere delle comunicazioni, quindi è sommamente esperta in materia, la cosa fa un po' paura per certi versi, da un punto di vista più che altro generale, di chi poi è lontano da certe dinamiche, da certe logiche o dalla conoscenza stessa del fenomeno, essere presenti su più teatri diversi, insomma vuol dire che non soltanto il futuro è arrivato già da un pezzo, ma che quello che sarà il futuro del futuro è inimmaginabile. Sì, le potenzialità che le reti di futura generazione potrebbero fornire sono veramente inimmaginabili, quello è certamente l'aggettivo più adatto. Fare paura, sicuramente consente di ridurre le distanze, si parla di zero touch, quindi un qualcosa di collegare le persone a lunga distanza in maniera in tempo reale, quasi come se le distanze fossero completamente annullate. E' quella stessa tecnologia che è consentito i concerti da remoto, per esempio il concerto di una famosa cantante, lei era a Berlino, il gruppo musicale era, non ricordo, forse in qualche teatro italiano e lei partecipava e suonava con il suo gruppo musicale, quindi consente in qualche modo l'interazione, appunto come lei diceva, di utenti distribuiti geograficamente e questi utenti nonostante le distanze riescono ad interagire in tempo reale, riescono a comunicare. Fare paura? Beh, sicuramente ci consente di essere ovunque, in qualunque momento, ancora non siamo a questi livelli, però queste sono le sue premesse, le sue promesse, però va regolamentata. L'aspetto di regolamentazione delle nuove tecnologie è fondamentale, sono aspetti di sicurezza, aspetti di utilizzo della tecnologia, quindi è chiaro che l'aspetto delle implicazioni etiche, sociali e legali, che tecnologie e servizi avanzati che possono essere realizzati con la rete di futura generazione, le implicazioni che possono avere sulla vita quotidiana vanno profondamente studiati e da qui, a parte i tecnici, sicuramente sono all'opera esperti in giurisprudenza, filosofi che guardano gli aspetti etici delle nuove tecnologie. Grazie.